. Serie A, il Milan cade a Genova, la Samp vince 2-0 e stende i rossoneri. Quinta giornata di campionato per Sampdoria e Milan Amarassi, con i rossoneri che arrivavano nel Catino Ligure con la necessità di vincere per legittimare quanto di positivo si è visto negli ultimi due impegni di campionato. . Tuttavia, a festeggiare la squadra di Giampaolo, che sfrutta nella ripresa i gol di Zapata prima ed Alvarez nel finale per archiviare una partita tutto sommato dominata in lungo ed in largo. . Montella che cambia poco rispetto allunici titolare di Milan Spal, unici avvicendamenti suso al posto di Andrè Silva e Buonaventura per Calanoglu. Sampdoria che scende in campo col classico 4-3-1-2 scelto da Giampaolo. . L'obiettivo dei blu cerchiati è quello di mantenere l'imbattibilità e di continuare a giocare bene per divertire i numerosi tifosi giunti allo stadio. . Milan in estrema difficoltà in un primo tempo divertente che vede la formazione ligure dominare in mezzo al campo, in virtù dell'elevata reattività dei Doriani che arrivano sempre per primi sulla palla. . Prima parte di gara che vede il rosso ne risoffirre il pressing dei giocatori di Giampaolo che fin da subito si rendono pericolosi. . . Secondo minuto di gioco, subito calcio di rigore per la Samp, Valeri si consulta col VAR e decide giustamente di cambiare la sua decisione, al 6 minuto blu cerchiati pericolosi con Quagliarella che sfrutta una palla persa ingenuamente da Bonucci sprecando tutto però peccando di lucidità con un cross fuori portata per Duvan Zapata. . 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